Quello che noi stiamo chiedendo, ripeto, è un governo migliore per il Paese e a quel governo migliore siamo disponibili a lavorare, perché tutto il contrario dell'irresponsabilità, perché pensiamo, io vedo che oggi lei finalmente si decide ad annunciare la cessione della delega sull'intelligence, ma abbiamo dovuto dimetterci noi per sentirglielo dire, perché lei il 30 dicembre l'aveva escluso. Allora, ripeto, con lei c'è sempre questo troncare, sopire, domani facciamo una task force, facciamo un incontro e un vertice, ma le cose non succedono mai e in questo momento così importante le cose devono succedere subito, signor Presidente, non si può traccheggiare, non è l'epoca del piccolo cabotaggio, non è l'epoca del rimandare ed è questo è stato il tratto del suo governo, dello suo stile, della sua azione di governo. Questo è il problema e questo noi abbiamo voluto porre sul tavolo e lo facciamo con fermezza. Allora le dico questo, se c'è da creare un governo migliore, non facciamo nessuna, noi non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, abbiamo accettato che il capo di questo governo fosse uno che aveva governato con la Lega fino al giorno prima, figuriamoci se oggi mettiamo un veto su di lei, ma le chiediamo di fare quello che tutta l'Italia le chiede, le chiede, cioè di muoversi, di darci delle risposte, di darci una visione, una direzione, una strategia. Se questo c'è, noi ci siamo, perché guardi, io ho rinunciato al mio incarico per mantenere le mie idee. Se invece il progetto è di lasciare le proprie idee per mantenere il proprio incarico, evidentemente noi non ci saremo. E questo sa perché? Perché quando si va a governare, glielo dice uno che il suo incarico l'ha lasciato, si fa un patto con i cittadini di oggi, con i figli dei cittadini di oggi e con i loro figli. E se noi non avremo un governo capace di governare, e le ripeto, purtroppo l'evidenza ci dice che questo è un governo dei tempi ordinari, non è un governo dei tempi straordinari, questo è il limite del suo governo, signor Presidente, ma se ci sarà la possibilità di dare un governo vero a questo Paese, Italia Viva, non mancherà.